Il Natale ha un sapore diverso se si dona tendendo la mano a chi ha bisogno. Con questo spirito, l'AMBA confesercenti provinciali di Salerno, raccogliendo l'invito della Prefettura e dell'Arcidiocesi di Salerno, in collaborazione con la Caritas, guidata da Don Marco Russo, ha lanciato il progetto Il Mercato della Solidarietà. Domani, pre-vigilia, mercoledì 23 e il 30 dicembre, i salernitani potranno recarsi dalle 8.30 alle 12.30 presso i mercati rionali di Pastena, in via De Crescenzo, a Torrione, in via Robertelli e in pieno centro, in piazza Casalbore, per acquistare dai banchi e depositare presso i punti di raccolta gli alimenti di ortofrutto e generi alimentari. Saranno accettati anche alimenti comprati in altri negozi, nelle vicinanze dei mercati. Tutti i beni raccolti saranno devoluti dalla Caritas alle famiglie bisognose. Nelle aree mercatali saranno presenti dei gazebo messi a disposizione dall'assessore al commercio di Salerno, Dario Loffredo, presenti i volontari della Caritas Diocesana. Sì, il 23 e il 30 dicembre abbiamo accolto un invito fatto dal prefetto di Salerno e dall'Arcivescovo, in collaborazione con Caritas e col Diretti, abbiamo aderito a questa solidarietà verso le famiglie più bisognose in questo periodo natalizio. Quindi nelle aree mercatali di Salerno, Passe, Natorrione e Piazza Casalbore saranno presenti degli stand dove è possibile donare anche un chilo di frutta, comprare un chilo di frutta dai banchi e portarli sotto agli stand che poi saranno dati alla Caritas per la distribuzione alle famiglie più bisognose. Sono stati individuati dei prodotti in particolare di cui si ha maggiore necessità per la vigilia di Natale? Ovviamente noi abbiamo individuato come prodotti, prodotti freschi, la frutta, la verdura, quella là che troverete ovviamente sui banchi disponibili dei mercati. Abbiamo chiesto per i bambini latte a lunga scadenza, biscotti ed altre derrate alimentari. Ovviamente se c'è la possibilità anche di avere dei panettoni, pandoro, quello che volete, anche con una bottiglia di spumante per far passare un Natale sereno a tutte le famiglie bisognose. Ricordiamo l'appuntamento domani mercoledì, così come mercoledì 30 dicembre, a partire dalle 8.30. Alle 8.30 fino alle 12.30 nelle aree mercatali di Salerno ci sarà questa bella iniziativa. Capisco c'è un momento di grande difficoltà per tutti, compresi noi ambulanti, però la solidarietà va sostenuta da parte di tutti.